ci troviamo in via del cipresso 68 per la vendita di un appartamento sito al piano terra di 122 metri quadri quello che vedete l'ingresso qui a destra abbiamo il soggiorno considerate che è un appartamento in buono stato gli infissi sono in alluminio con il doppio vetro gli impianti sono stati rifatti qualche anno fa l'affaccio è sulla vallata su viale napoli quindi è un'ottima esposizione è un immobile che prende tanto sole è una piccola palazzina l'appartamento è al piano terra ma non è un piano terra che poggia sul terreno poiché ci sono due piani sotto il livello strada dove ci sono altri appartamenti dal soggiorno passiamo nella cucina vedete che anche le porte gli infissi interni sono stati cambiati l'impianto idraulico della cucina è stato ristrutturato questa è la cucina una bella cucina abitabile con due finestre la faccia della cucina è sul cortile condominiale proseguiamo qui a sinistra abbiamo il bagno bagno con doccia e attacco per la lavatrice questa è la prima camera da letto la camera patronale con due finestre anche questa stanza con affaccio sempre su viale napoli a seguire abbiamo la seconda camera o studio attualmente adibito a studio ma può essere tranquillamente una seconda camera da letto e questa è la terza camera da letto quindi parliamo di un appartamento con tre camere da letto ripeto 122 metri quadri un bagno un soggiorno una cucina abitabile e abbiamo la soffitta cante